Grazie a tutti. Ocultamento di cadavere e utilizzo del bancomat della sua compagna, Speranza Ponti, rinvenuta cadavere nella giornata di venerdì. Oggi è previsto il vertice che vedrà confrontarsi il Regione Ministero dei Trasporti, la rappresentanza permanente dell'Italia nell'Unione Europea e i vertici della Direzione Generale della Mobilità e Trasporto UE. Da più parti si chiede la soluzione definitiva per dare a Sardi una mobilità dignitosa. Come di consueto nell'edizione di oggi del nostro telegiornale, spazio e risultati delle varie formazioni che militano i campionati. Dal calcio, passando per il calcio a 5 al basket, parleremo anche di tennis. Un saluto a tutti voi, buon inizio di settimana, telespettatori di Catalan TV. In primo piano ancora la morte di Speranza Ponti, il cui corpo è stato trovato venerdì mattina a Montecarro, in mezzo ai Cespugli, a pochi metri da Resor, vista blu. Perché quest'oggi è in programma l'interrogatorio di garanzia per Massimiliano Farci, 53enne rinchiuso nel carcere di Bancali, accusato di omicidio, occultamento di cadavere, sottrazione e utilizzo del Bancomat di Speranza. L'uomo risponderà alle domande del GIP Antonio Spano, alla presenza del suo avvocato difensore Daniele Solinas. Sempre oggi sarà conferito l'incarico al medico legale Salvatore Lorenzoni per eseguire l'autopsia sul corpo della donna. Una volta eseguito l'esame, il corpo della stessa sarà restituito ai familiari per le esequie che dovrebbero tenersi a Uri, paese nel quale i genitori vivono ormai da diversi anni. Autopsia che risulterà chiaramente decisiva per stabilire le cause della morte della povera donna, con i ris che invece effettueranno probabilmente ulteriori sopralluoghi nell'appartamento nel quale vivevano i due e nella pizzeria gestita da Farci. Ulteriori sviluppi ovviamente ci riserviamo di darveli magari nell'edizione di domani del nostro telegiornale. Lasciamo la cronaca, parliamo di continuità territoriale. Oggi è previsto il vertice tra regione, rappresentanti del Ministero dei Trasporti, quelli della rappresentanza permanente dell'Italia nell'Unione Europea che saranno a Roma, mentre dall'altra parte da Bruxelles interverranno i vertici della Direzione Generale della Mobilità e Trasporto della UE. Intanto c'è da registrare l'intervento della Confcommercio Sardegna che in una nota firma del suo presidente chiede soluzioni risolutive per consentire ai sardi di godere di una mobilità dignitosa. La Sardegna vive un momento difficile sotto diversi aspetti, tra i quali difficoltà nei trasporti, carenze infrastrutturali, mancanza di lavoro e altri che tutti ben conosciamo. Riteniamo perciò fondamentale sollecitare ogni possibile sforzo per risolvere l'annosa problematica della continuità aerea in scadenza al 16 aprile, che ad oggi non vede una soluzione che consenta ai sardi di godere una mobilità dignitosa e alle imprese di poter lavorare considerando i flussi turistici. Si apre così la nota di Confcommercio Sardegna, firma del suo presidente Nando Faedda, che si rivolge al governatore Solinas, oggi impegnato nel vertice importante sulla continuità territoriale. Nell'unirci alle osservazioni già portate alla sua attenzione dal mondo delle associazioni e rappresentanza delle imprese turistiche, vogliamo ricordare l'importanza dei collegamenti anche per il mondo imprenditoriale della somministrazione, del commercio al dettaglio e dei servizi che beneficiano dell'arrivo di visitatori e turisti. I ristoranti, i bar, le imprese della balneazione e quelle di servizi, oltre a tutto il comparto del commercio al dettaglio, prosegue Faedda, che assumono personale per far fronte all'incremento di lavoro stagionale, sono immobilizzate impossibilitati nella decisione, con conseguenti forti preoccupazioni per il proprio futuro. L'assenza di strumenti certi per i voli aerei e il clima di incertezza sulla continuità marittima con condizioni rinnovate ad oggi solo fino all'estate 2020 annulla la capacità delle imprese di programmare l'attività e le assunzioni stagionali con gravissime ricadute anche per il mondo imprenditoriale lontano dai flussi turistici, come quelle del terziario di mercato, che vivono sulla capacità delle persone di avere redditi. L'economia isolana non può sopportare l'ammanco delle risorse provenienti dai flussi turistici, né può permettersi difficoltà di trasporto delle manifatture e delle imprese che danno e quindi creano lavoro anche al terziario di mercato, prosegue il presidente di Confcommercio Sardegna, Faedda. Si parla tanto di imprese che chiudono e se ne parla ha ragione. I dati sono preoccupanti. Nel settore commercio, da gennaio a settembre 2019, hanno cessato 1.024 imprese. Nel settore della somministrazione, si parla quindi di bar, ristoranti, pizzerie, il saldo è ugualmente negativo. Meno 237 imprese. È una situazione grave a cui non si può aggiungere il mancato guadagno derivato dai flussi turistici. Chiediamo una soluzione immediata. I tempi sono ormai maturi per colmare il grave permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità. Non vogliamo vedere ulteriori dati negativi e sicuri che anche lei condivide questa preoccupazione, chiude Nando Faedda per Confcommercio Sardegna. Le chiediamo ogni utile sforzo per risolvere questo problema, i cui effetti sarebbero veramente distruttivi per l'economia dei nostri comparti e della Sardegna intera. È vergognoso che ad oggi non si possa prenotare un volo oltre quella data ormai prossima, così l'ex sindaco Mario Bruno, ora consigliere comunale di opposizione, sulla data del 16 aprile, nella quale appunto scadrà l'attuale regime di continuità territoriale. Non solo, prosegue Bruno, in una nota, si cercherà una via di uscita sul nuovo modello. Il tema di rimente è la tariffa unica, ma anche le frequenze. È una telenovela in cui la regione esce sconfitta nelle sue convinzioni, ovvero tariffa unica per tutti, anche per i non residenti, mentre l'Unione Europea intende ribadire un concetto chiaro, la continuità è per i sardi, non per tutti, cioè tariffe scontate per i soli residenti in Sardegna, scrive l'esponente di centro-sinistra. L'UE dice anche che le frequenze tra Sardegna e continente sono troppe d'estate. Il modello corso, basato su un tetto massimo di posti riservati ai residenti, piuttosto che sul numero di voli giornalieri onerati, piace di più. Ma su questo punto non si doveva e si deve cedere come regione. La regione ha invece ceduto, attacca l'ex sindaco. Ha proposto dapprima l'adozione di una tariffa unica agevolata per nove mesi e differenziata a contetto massimo di posti per l'alta stagione, dal 15 giugno al 15 settembre. In alternativa all'adozione di una tariffa unica agevolata per dieci mesi, di una tariffa libera per i restanti due, dal 1 luglio al 31 agosto. Proposte però non accolte. Si è passati allora ad una proposta ancora più al ribasso. per i non residenti, una tariffa libero mercato per quattro mesi estivi dal 1 giugno al 30 settembre, e una tariffa a contetto massimo pari al doppio della tariffa residenti per i restanti otto mesi, dal 1 ottobre al 31 maggio. La regione, pur di uscirne, si è detta anche favorevole a valutare un ulteriore dimensionamento dell'offerta di posti nel periodo estivo, previa consultazione con i vettori aerei. Vediamo come andrà, altro che pugno di ferro dei leghisti, sardisti, sovranisti. Ci saremo accontentati di discutere alla pari, tra forze e istituzioni indipendenti. Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di una regione supina e di un nuovo blef, anche sul diritto alla mobilità, conclude Bruno. Al via oggi lavori di rifacimento e allungamento della pista. All'aeroporto di Olbia, lavori che dovrebbero concludersi il 13 marzo. La GESAR, società di gestione dello scalo gallurese, ha attivato un servizio di busnavetta che collegherà l'aeroporto olbiese con quello di Alghero. Le corse saranno 5 al giorno e saranno effettuate in coincidenza con i principali collegamenti aerei in arrivo e partenza ad Alghero. Tutti i voli in programma dai per l'aeroporto di Olbia durante il periodo di sospensione sono stati infatti cancellati con lo scalo algherese che d'altro canto dovrà assorbire anche i passeggeri galluresi. A tal proposito, nelle scorse settimane la Regione aveva chiesto uno sforzo dall'Italia per aumentare le frequenze dei voli in continuità territoriale ad Alghero e la capienza degli aeromobili. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Ritorniamo in studio. La Regione ha colto con favore il progetto della cooperativa sociale Solo Mare individuando nel Museo Etnografico un importante contributo verso la verità storica sulle vicende che hanno riguardato il confine orientale italiano nella seconda metà degli anni 40. Lo ha detto l'assessore regionale degli antilocali Quirico Sanne in occasione della posa della prima pietra del Museo Egea nel terreno delle ex officine Egas di Fertilia. A compiere il gesto simbolico, l'esule istriana Egea Afner, ospite del convegno, una luce sulla memoria nel parco di Porto Conte ad Alghero durante il quale venerdì mattina è stato presentato il progetto del Museo di Fertilia. Egea è nata a Pola e figlia di un infoibato e insignito con la medaglia commemorativa del sacrificio offerto alla patria dal Presidente della Repubblica Ciampi e diventato un simbolo dell'esodo Giuliano Dalmata per la foto dove è ritratta da bambina con la valigia e la scritta Esule Giuliana numero 300001. Il museo, costruito in un bene messo a disposizione della Regione, sarà terminato per settembre. Attraverso un percorso multimediale ricco di documenti e testimonianze farà conoscere la storia della città di fondazione di Fertilia e dell'esodo. Potrà diventare un punto di riferimento per la comunità Giuliano Dalmata che si è stabilita nella frazione di Alghero, ha aggiunto l'assessore Sanna, ma sarà anche metà di scolaresche che così potranno conoscere attraverso un'ampia documentazione una pagina dolorosa di storia nazionale caratterizzata dalle migliaia di vittime delle foibe dall'esodo di oltre 350 mila italiani dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia. Un monito alle nuove generazioni contro la cultura dell'odio che ha contribuito per decenni ad occultare la verità. Una bella storia di accoglienza che ormai è patrimonio di tutta l'isola, diversamente da altre regioni dove il fanatismo ideologico impedì ai profughi di stabilirsi dopo essere stati cacciati dalle proprie case e privati dei loro beni dal regime jugoslavo del maresciallo Tito, ha concluso l'esponente della giunta Solinas. Approvata dall'aggiunta all'eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione sugli alloggi realizzati in aree dell'inizia economica popolare e alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, la procedura consente ai proprietari di alloggi realizzati all'interno dei piani di edilizia economica popolare che potrebbero fare istanza di rimozione del vincolo che determina il conseguente prezzo massimo di cessione di agire nel libero mercato. La delibera proposta dall'assessore Aldemani e Patrimonio del Comune di Alghero Giovanna Caria e approvata dalla giunta comunale algherese nella seduta del 22 gennaio prosegue un percorso avviato dal Consiglio Comunale nel 2017 con il recepimento e approvazione dei criteri per la determinazione del corrispettivo e dalla successiva legge 136 2018 sulla rimozione dei vincoli. Il Comune intende promuovere questa opportunità che consentirà ai cittadini interessati di acquisire in proprietà le aree comprese nei piani di edilizia popolare convenzionata già concessi in diritto di superficie. Il provvedimento è necessario e importante, spiega l'assessore Caria, e riguarda tanti cittadini. L'amministrazione ha tenuto conto dell'opportunità offerta dal quadro normativo e giurisprudenziale in materia, offrendo la possibilità di ottenere una notevole riduzione dell'importo del corrispettivo dovuto precedentemente per l'eliminazione dei vincoli. E sono previste nel Comune di Alghero due nuove campagne di microcipatura gratuita dei cani di proprietà. Come per i precedenti appuntamenti, l'orario rimane invariato dalle 9 alle 10, sempre presso i locali comunali nei giardini Martin Luther King in via Domminzoni. Gli interessati possono prenotarsi presso gli sportelli di InfoAlghero, muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e dati identificativi del cane, cioè età, sesso, nome e razza. Il servizio di microcipatura, il primo dei quali è previsto per questo venerdì 7 di febbraio, sarà effettuato a cura del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'ATS Sardegna, ASLE di Sassari, in collaborazione con l'assessorato delle politiche ambientali del Comune di Alghero e sino ad un massimo di 30 registrazioni per sessione. Si fa presente, proseguono la nota del Comune, che le operazioni di microcipatura saranno effettuate seguendo l'ordine di arrivo presso la sede e non quello di iscrizione all'InfoAlghero. Ed ora spazio a gusto e spettacolo, perché in occasione dell'evento tenutosi al Carlo Squinto, che ha visto protagonista il pasticcere Alessio Mura e il suo libro Metodo Mura, insieme all'autore erano presenti anche due volte noti della TV. Silvana Giacobini, giornalista e direttrice per tanti anni di testate nazionali come Chi, Gioia e Diva e Donna, che abbiamo proposto già in un'edizione del nostro telegiornale, e Anthony Pett, presentatore TV ed esperto del gusto, di cui invece la quale intervista proponiamo proprio ora. Guardate. Anthony Pett, ambasciatore del gusto, oggi si presenta il libro Metodo Mura, però questa frittella nuvola, diciamo la verità, tu te la sei già mangiata. Già mangiata, intanto ben trovati ai telespettatori di Catalan TV. Detto bene, già mangiata, già gustata, e soprattutto sono contento di presenziare insieme a tanti altri ospiti a questa serata. Importante perché quando i sogni si avverano è giusto essere partecipi, soprattutto quando si tratta di eccellenze come Alessio Mura. un metodo particolare tra l'altro che è derivato da due anni di studio e quindi oggi avremmo modo di conoscere non solo il metodo della frittella nuvola, ricordiamolo, l'unica frittella ad alta digeribilità in Italia, ma soprattutto conosceremo meglio la storia. Tu lo sai, voi lo sapete, a me mi piacciono le storie di tradizione e di passione. E la famiglia Mura ha tanto da raccontare. Alla fine tu possiamo dire che l'hai vissuta, perché ci siamo anche visti, abbiamo avuto il piacere di vederci anche nell'evento che è stato fatto qualche mese fa, dove si è presentato proprio il metodo della frittella nuvola, dove l'abbiamo sì assaggiata, degustata e poi anche digerita subito. E sei stato proprio tu ad avere il piacere di descrivere questa frittella. Esatto, sì, perché io quando ho conosciuto Alessio tanti anni fa ho assaggiato tanti dolci, però sono una persona estremamente sincera. In questi anni, soprattutto, di conduzioni televisive nel campo dell'enogastronomia, mi sono reso conto che bisogna essere sinceri, soprattutto con grandi chef, perché Alessio è uno chef per quanto riguarda la pasticceria, e dire quello che in realtà si pensa. E ho trovato la frittella nuvola, tra i prodotti che lui realizza, un prodotto eccelso, ma soprattutto con grandi potenzialità. Ci rivediamo oggi dopo anni, con la creazione anche di un libro, ma soprattutto credo che vada raccontata un po' questa storia. Ho avuto il piacere ovviamente di riviverla insieme ad Alessio quando abbiamo presentato insieme sulla RAI, all'interno di People, il settimanale, questa particolarità di questa frittella, ma credo che faccia anche bene alla salute. Quindi Italia da gustare, Italia più bella. Facciamo ora l'ultima pausa per la pubblicità, poi parliamo di sport. Come di consueto il lunedì, spazio allo sport e i risultati delle nostre formazioni nei vari campionati. Cominciamo con il calcio, visto che il rugby di Serie A ha riposato per il 6 nazioni. In seconda categoria, girone G, partite ricche di gol, quelle delle due formazioni locali. L'Audax ha pareggiato 5-5 in casa contro il Padria per la squadra guidata da Nando Correddu, che è stata anche in vantaggio di due da gol. Doppietta di Baldino e tripletta di Ceconello. Il Treseliges invece ha vinto, 6-2 sul campo del Duospedes, per l'undici di Bardini a segno. Frauguer, Riero e Rizzo, quindi Orune, con una doppietta e un autogol dei padroni di casa. In classifica Audax raggiunta al quarto posto a quota 33 da Florina, Seboi e il Puttifigari. Treseliges invece sale a quota 20 allontanandosi dalla zona calda della classifica. In terza categoria, nel girone sassarese, il 1945 al Gherosale. Il quarto posto, grazie alla vittoria esterna, 2-1 sul campo del Tottubella. Per i giallorossi a segno Pitalis e Bentivegna. Un passaggio come sempre anche sulla prima categoria, girone D con l'Olmedo fermato sul pari casalingo dal Coghinas, 1-1 con gol di Cherchi, che ha risposto nel finale all'iniziale vantaggio degli ospiti. Bianco-verdi che restano ultimi in classifica. Spazio anche al calcio a 5, con la Fuzza all'Alghero che ha perso 10-2 in casa. Sabato sera contro la Mediterranea, quarta forza del campionato di C1 per la squadra allenata da Mister Cano, a segno un ali e lo spagnolo Dengravera. Algheresi sempre in zona play-out, ma ora a meno 6 dalla salvezza diretta. Vediamo anche cos'è successo per le nostre squadre di pallacanestro. Cominciamo come di consueto con la Serie B femminile, dove c'è da registrare la vittoria. L'undicesima vittoria stagionale per la Mercedes sul parquet del Pallacorbia. La compagine algherese ha superato con il punteggio di 68-61. L'Astro Cagliari nel match valido per la quarta giornata della fase d'orologio. Ritorno alla vittoria. 22 punti per le bianco-azzurre. Successo interno anche per la Coral, che nella Serie D maschile nella gara valevole per la terza giornata della fase d'orologio ha battuto per 73-44 l'Azzurra Oristano. La formazione di coach Corrias in classifica occupa il terzo posto con 18 punti. Chiudiamo con il tennis. Le ragazze del tennis club Alghero guidate da capitano Giancarlo Di Meo hanno battuto 3-0 le sassaresi dell'ipertennis nella finale di play-off. Si sono aggiudicate così la seconda serie femminile del campionato invernale di tenis a squadra. Anche questa settimana le algheresi si sono imposte senza cedere un set alle avversarie. Nel primo singolare Anastasia Ogno ha regolato 6-2-6-1 Laura Petrucci. Nel secondo Claudia Bardino ha superato Paola Zonza in 2-7 fotocopia 6-1-6-1. Nel doppio giocato a risultato acquisito Marta Cao e Martina Ingrao hanno battuto 6-2-6-0. La coppia sassarese composta dalla capitana giocatrice Anna Carmela Cherchi e Donatella Fadda. Con questo risultato il tennis club Alghero vince il titolo di categoria e festeggia la promozione nella massima serie conquistata proprio sette giorni fa. Ed è tutto per l'edizione di oggi del telegiornale. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio al meteo. Arrivederci. Grazie a tutti.